e a causa delle molte cose chiare e preziose che sono state tolte dal libro moltissimi davvero inciampano e la verità è la conoscenza delle cose come sono e come furono e come devono avvenire ibis redibis non morieris in ben proviene da una fonte antica e misteriosa chi ha detto come avete due minuti per aprire la prima porta a partire da due secondi fa o l'uomo il per Grazie a tutti.